fa un po freddo andiamo a fare questo propane trail senza la propane con l'arte è un errore giornata leggermente fredda direi allora esiste il sole le pecore stanno venendo verso di noi non sono sicuro che questo sia un buon segno avete mai visto il film black sheep guarda le pecore zombie bella non si mangiano aspettiamo un po più sono amichevoli forse bella la strada quindi cerchiamo di fare una via alternativa chissà se i nostri eroi riusciranno a trovare il sentiero è arrivato il sole mi vedo le montagne ah si con la val venossa che si scopre la nebbia inizia ad andare via siamo quasi in cima alla salita è salita fatta colpo d'occhio è sempre bello qua nessun bivio possono andare qui all'inizio non c'è un bivio fino alla strada no? eh non mi ricordo cioè ad un certo punto si interrompe però quindi ok ma se volete posso andare anch'io davanti si vai tu dai vai ron prego prego ok andiamo a fare questo sentiero fluo minchia diciamo che questo fluo non ci ha proprio creduto eh a sinistra sinistra c'è un po' di secco no è una sensazione attenzione si incastra vedi bolli tutto bolli tutto è si questa è invece a se es beach ΄ oh ma mia ci c'è at hot pad stai divertendo mamma le gambe diciamo che il grip non esiste completamente inesistente però il sentiero è fighissimo guarda il polverone che si alza io me l'ho lanciato si combinava a stare atti ah che brutta curva mi sono fatto il pezzettino davanti mi sono stancato le gambe si sono stancate dobbiamo mangiare un po' di polvere scimolosissimo è vero ? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 attenzione i fiumi e raghi attenzione si incastra sì sì e marcelo va no se andiamo anche noi andiamo anche noi ci siamo un po imputtati con la compressione ci siamo bravo mars mi è piaciuto il passaggio che hai fatto vediamo se Roby c'è Roby disperso attenzione grande Roby bella si è lanciato si è lanciato attenzione attenzione ci sono dei buchi grossi ogni tanto però posso stare attenti dietro di me si si oh madonna si può fare ma penso che dopo la curva io mi ricordo che l'avevo fatto l'altra volta chi lo sa io mi ricordo che l'avevo fatto vediamo un po se arrivano grande marcelo su quel masso perfetto giù vai 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 bravo grande su quel masso e poi giù su quel masso vai 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 no si faceva si si no si passa no se lo prendi in tempo è un bel è per quello che ti ho detto io vai su quel masso no se tu passavi lì di sopra proprio sopra questo ma vabbè uno bravo salta la sorta tutto qua però di là si copiava bello eh bello castelbello castelbello di dove ti fatto di dove ti fatto le cornacchie ci girano attorno pronte a mangiarci all'ingresso del sanni benni volevamo andare a fare il chili però poi siamo siamo troppo devastati quindi niente siamo stanchi andiamo a fare questo che non siamo più giovani una volta andiamo a fare questo un bel flow panoramico aprite l'ammo fatto sì anch'io posto ecco ecco adesso sono a posto non prendere scuse per rimandare la partenza ah che bello aspetta 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 возgwards aspetta dai che è e se no ci passa un domani bello 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 segno cavalli vado io? fate voi? vai 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 ciao sunny burning benedetta benedetta assoleggiata adesso si che mi piace qua c'era un doppiettino che si poteva doppiare ma noi siamo stati un po' a delle bussi ohoi sembrava quasi troppabile a quel pezzo Occhio alla lastra Occhio Ok Pompa pompa Occhio allo Sì Andiamo aperto, quello è il ciglio Ah ok Dai che qui è... Bene Sì sì Ormai queste five times sono arrivate a cottura Sì 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 Figo eh Figo Grande Mamma mia signori Sì 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 Ciao Che è successo? Sì 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 Robi Robi Ma cosa mi combini Robi Sì 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 Molla 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 vero? Eh Signori C'era quasi la caduta La guffata La guffata Ho detto che questo è il pezzo più difficile Attenzione Il momento è drammatico Questi sono gli agganci che lo limitano E c'è? E c'è? No non c'è Eh eh Attenzione Eh Ce la fa? Vai Robi Insegnaci come si fa Con quel tronco lo vedo già che ti farà cadere All'esalti Easy E a me chi lo tiene il carcello? Hehehe Come scusa? Hai avuto l'aiuto? Eh? Hai avuto la difficoltà del cancello al chiudersi? Hehehe Ma anche l'aiuto è Dottor Viva l'aiuto Bella capo Siamo vivi, siamo salvi